Saranno le indagini del commissariato di Omenia a chiarire quanto successo sabato sera all'esterno di una bar del centro storico. Un ragazzo omenese sarebbe stato vittima di un'aggressione che gli ha procurato un taglio a fianco dell'occhio con sanguinamento e danni al canale lacrimale. L'omenese è stato prima trasportato all'ospedale Castelli e poi al San Biagio per delle cure specialistiche. A dare l'allarme è stato un amico che lo ha trovato sanguinante. immediata la chiamata al 118 e dalla polizia intervenuta sul posto con una volante. La persona aggredita era peraltro in evidente stato confusionale dovuto ad un abuso di alcol e ricordava poco o nulla di quanto successo in precedenza. Stiamo facendo accertamenti confidando anche nell'ausilio delle immagini delle videocamere che sono installate nelle vie del centro storico spiega il vice questore patera. Sembra che l'omenese dopo un alterco sia stato colpito da alcune persone questo quanto raccontato da chi avrebbe assistito alla scena.